Non scontenterei mai una giovane signora il giorno del suo compleanno. Lei è consapevole di essere straordinariamente condizionato dal potere della musica? Non lo siamo tutti? Beh, certo. In una certa misura, sì. Intende star qui tutto il giorno a farmi perdere tempo? No, anzi, stavo andando. Allora, quella è la porta. Mi dica, lei è sensibile a qualcos'altro oltre che ai compleanni? I compleanni, un'insulsa perdita di tempo e di denaro. Straordinario. Il signor Fitzgerald Fortune, critico teatrale e uomo cinico, ora sta andando ad una festa. Se sapesse cosa l'aspetta, probabilmente non ci andrebbe, perché prima che la serata sia finita, quel vecchio piano sconquassato suonerà delle melodie dagli effetti che possono verificarsi solo ai confini della realtà. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Buonasera, signore. Hai spolverato il piano, vedo. Sì, signore. È arrivato circa un'ora fa. Marvin? Sì, signore. Se stasera dovessi provvedere al servizio, potresti fare qualcosa per la tua faccia. La mia faccia? Una festa è un'occasione gioiosa, quindi potresti cercare di apparire meno infelice del solito? Farò del mio meglio, signore. Sei tu, Gerald? Sì, Esther. Ciao, cara. Esther, voglio che Marvin venga licenziato. Cosa ha fatto? Non si tratta di ciò che ha fatto, ma del suo aspetto. Non sopporto di tornare a casa tutte le sere e di vedere la lugubre espressione della sua faccia. La trovo deprimente. Guardalo, sembra che stia per piangere da un momento all'altro. Di sicuro potremmo trovare un domestico più gradevole da avere accanto. Non c'è motivo di ferire i suoi sentimenti. Quel uomo non ha sentimenti, è uno zoticone. Non ti è piaciuto il pianoforte che ti ho regalato? Oh, è un dono magnifico, dico davvero. L'hai suonato? Non sapevo come fare, così ho deciso di aspettare che tu rientrassi a casa. Hai visto? Mi sono ricordato che volevi suonare il pianoforte. Ma questo piano suonò da solo. Sì, e forse dovresti ringraziarmi. Ho pensato di risparmiarti tutte le noiose lezioni per imparare a suonarlo, per poi scoprire di non aver talento per la musica. Capisco. Allora, cara, non mi ringrazio per il regalo che ti ho fatto? Non ne sei un po' commossa? Grazie, Gerald. Ma adesso ti faccio vedere come funziona. Fammi solo trovare qualcosa di allegro. Grazie, Marvin. Marvin, cosa diavolo ti sta succedendo? Ti senti bene, Marvin? Sto benissimo, grazie, madame. Ma stai sorridendo. Dice davvero? Assolutamente. Beh, probabilmente perché sono felice, signore. E per quale motivo lo sei? Per tutto! Guadagno bene e vivo in una bella casa. Ho la salute del denaro in...